Siamo con Mario Marazziti, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera. Il 17esimo convegno dell'IDO a Roma, dove si parla di autismo, un disturbo dalle cause ancora sconosciute, c'è bisogno di un confronto aperto. L'autismo è una grande domanda per la nostra vita quotidiana. E' proprio perché cause poco note, tre geni, più geni che combinati creano un disturbo così importante e poi perché non si sa, tanti non sanno come relazionarsi a persone che hanno problemi di autismo, è proprio una grande domanda per la nostra società, una domanda sull'integrazione, su come essere a misura di persone con problemi semplicemente diversi dai nostri. Ma l'autismo è anche una domanda scientifica, è una domanda per il servizio della salute del Paese. Allora, io credo che dobbiamo lavorare in due direzioni, almeno due. La prima è come fare, come arrivare a una diagnosi molto precoce. Una diagnosi precoce nei primissimi mesi, anni della vita, può permettere per esempio di ridurre in maniera consistente o addirittura di annullare l'impatto sociale, cioè alcune abitudini, alcuni comportamenti che si formano in quel periodo della vita. Allora come si fa? Bisogna aiutare i pediatri, bisogna aiutare i medici che si occupano dei bambini dal momento della nascita, nei primissimi mesi, nei primissimi anni, per avere le competenze, per cominciare a avere il dubbio e poi a verificare se si tratta di una forma di autismo. Questo potrebbe cambiare la vita di molti, anche se ancora non conosciamo perfettamente come combattere questa patologia. Ma dal punto di vista dell'organizzazione sociale, della nostra vita quotidiana, io credo che c'è un punto interrogativo quando le persone con problemi di autismo escono dalla scuola, dalla scuola superiore. C'è tutto un percorso di aiuto, di sostegno, di accompagnamento che rischia di finire proprio dopo la scuola secondaria superiore. Ecco, dobbiamo lavorare all'inizio e all'inizio dell'età adulta e io credo che questo potrà aiutare molte famiglie e molte persone.